La parola quotidiana di Dio Per molti anni, il tradizionale strumento della fede umana è consistito nella lettura della Bibbia. Deviare da essa significa non avere fede nel Signore, è espressione di eterodossia e di eresia, e anche quando gli uomini leggono altri libri, il fondamento di quest'ultimi deve essere l'esplicazione della Bibbia. Vale a dire che se credi nel Signore, devi leggere la Bibbia, e al di fuori della Bibbia non devi venerare alcun libro in cui essa non sia implicata. Se lo fai, tradisci Dio. Sin da quando esiste la Bibbia, la fede nel Signore da parte delle persone è stata fede nella Bibbia. Anziché dire che gli esseri umani credono nel Signore, è meglio affermare che credono nella Bibbia. Anziché sostenere che hanno iniziato a leggerla, è meglio affermare che hanno cominciato a credere in essa. E anziché dichiarare che sono tornati al Signore, sarebbe meglio dire che sono tornati alla Bibbia. In tal modo, le persone venerano la Bibbia come se fosse Dio, come se si trattasse della loro linfa vitale, come se qualora essa venisse a cessare, verrebbe meno la loro stessa vita. Gli uomini considerano la Bibbia di pari importanza rispetto a Dio, e vi sono addirittura taluni che la ritengono superiore a Lui. Se gli esseri umani sono privi dell'operato dello Spirito Santo, se non riescono a percepire Dio, sono comunque in grado di continuare a vivere. Ma non appena vengono privati della Bibbia o dei celebri capitoli e proverbi contenuti al suo interno, è come se avessero perso la vita. Così, non appena giungono a credere nel Signore, cominciano a leggere la Bibbia e a memorizzarla. E quanta più ne sono in grado di imparare a memoria, tanto più dimostrano di amare il Signore e di avere grande fede. Quanti l'hanno letta e sono in grado di parlarne ad altri, sono tutti fratelli e sorelle da bene. Per tutti questi anni, la fede nel Signore e la fedeltà nei Suoi confronti da parte delle persone sono state misurate in base all'entità della loro comprensione della Bibbia. La maggior parte della gente semplicemente non capisce il motivo per cui dovrebbe credere in Dio né come credere in Lui e non fa altro che andare ciecamente alla ricerca di indizi per decifrare i capitoli della Bibbia. Le persone non hanno mai perseguito la direzione dell'operato dello Spirito Santo. Fin dall'inizio, non hanno fatto altro che studiare ed esaminare ostinatamente la Bibbia e al di fuori di essa nessuno ha mai rinvenuto opere più recenti da parte dello Spirito Santo. Nessuno ha mai deviato dalla Bibbia né ha mai avuto il coraggio di farlo. Gli uomini hanno studiato la Bibbia per tutti questi anni, hanno ideato talmente tante spiegazioni e lavorato così indefessamente hanno anche avuto molte divergenze di opinioni in proposito sulle quali hanno dibattuto all'infinito cosicché attualmente si sono venute a formare più di duemila denominazioni diverse. Tutti ambiscono a trovare qualche interpretazione particolare o misteri più profondi all'interno della Bibbia. vogliono sviscerarla e identificarvi retroscena dell'opera di Yahweh in Israele o dell'opera di Gesù in Giudea oppure ulteriori enigmi che nessun altro conosce. Le persone hanno un approccio alla Bibbia caratterizzato da ossessione e fede e nessuno può spiegare in modo del tutto chiaro la sua storia segreta o la sua sostanza. Pertanto, oggi gli uomini nutrono ancora un senso indescrivibile di meraviglia quando si tratta della Bibbia e ne sono ancora più ossessionati e nutrono ancora più fede in essa. Oggigiorno, tutti vogliono rinvenire nella Bibbia le profezie dell'opera degli ultimi giorni vogliono scoprire quale sarà l'operato di Dio in tale periodo e quali saranno i segni che presagiscono l'avvicinarsi degli ultimi giorni. In tal modo, il loro culto della Bibbia diventa più fervente e quanto più gli ultimi giorni si fanno imminenti tanto più danno cieca fiducia alle profezie bibliche in particolare a quelle riguardanti gli ultimi giorni. Con una simile fede cieca con una tale fiducia in essa non vi è in loro alcun desiderio di cercare l'opera dello Spirito Santo. Nelle loro nozioni gli uomini ritengono che solo la Bibbia possa suscitare l'opera dello Spirito Santo che solamente in essa si possano trovare le orme di Dio e si celino i misteri dell'operato divino. Ritengono che unicamente la Bibbia non altri libri o persone possa chiarire tutto di Dio e la totalità della sua opera che possa portare l'opera celeste in terra nonché determinare il principio e la conclusione delle epoche. Con queste concezioni le persone non sono propense a cercare l'opera dello Spirito Santo pertanto, a prescindere da quanto la Bibbia sia stata di aiuto per loro in passato essa è divenuta un ostacolo per l'opera attuale di Dio. Senza la Bibbia le persone possono cercare le orme di Dio altrove eppure, oggi le sue orme sono state contenute dalla Bibbia. L'estensione della sua opera attuale è diventata doppiamente difficile e si tratta di un'ardua lotta. Tutto ciò è dovuto ai celebri capitoli e detti della Bibbia come pure alle varie profezie che essa contiene. La Bibbia è diventata un idolo nella mente delle persone un enigma nel loro cervello e sono semplicemente incapaci di credere che Dio possa operare al di fuori di essa e che l'uomo possa trovare Dio al di fuori della Bibbia e ancor meno riescono a credere che Dio possa deviare dalla Bibbia durante l'opera conclusiva e ricominciare da capo. Questo è impensabile per l'uomo non lo può né credere né immaginare. La Bibbia è diventata un grande ostacolo per l'accettazione da parte degli uomini della nuova opera divina nonché un impedimento per l'ampliamento della stessa da parte di Dio. La Bibbia è diventata un'ampliamento della stessa da parte di Dio.